Mi chiamo Grazia e sono di Novara. Sono sposata da 30 anni con mio marito e ho scoperto che mi tradisce e mi ha detto che con lei prova sensazioni che con me non ha mai provato. Ma è rimasto insieme a me. E' questa è la mia storia. Accommingiamo. Conosco mio marito all'età di 17 anni. Abbiamo due figli che ormai sono grandi. A settembre inizio a vedere mio marito un po' strano. Così inizio a controllare Whatsapp. Vedo che si scriveva con una donna. Non gli dico niente. Lo tengo sotto controllo per un po' di giorni. Fino a che, a nostro anniversario, quasi a fine mese, gli dico tutto quello che so. Ovviamente lui all'inizio cerca di negare. Ma quando gli dico che ho tutti i messaggi conservati, ammette la verità. Mi dice che è una storia che va avanti da due o tre mesi, poco più. Io cerco di cacciarlo via di casa, ma lui non se ne va. E così, stando in casa, inizio a riavvicinarmi a lui. Mi dispiace perché litighiamo e nostra figlia sente tutto. E stando vicino a lui, lui è come se piano piano si aprisse. Mi dice che invece va avanti da un anno e mezzo, che con questa donna prova cose che con me non ha mai provato, che l'ama e che non riesce a stare senza di lei. Ovviamente questo fa sì che io stia male, ma cerco di ricostruire una famiglia e me lo tengo a casa. Ovviamente ci sono anche tanti litigi perché questa cosa mi fa soffrire. Lui continua a sentirla e ogni volta che la sente lui me lo dice. Ce l'ha ancora su WhatsApp e ancora su tutti i social. Fino a che, a novembre, litighiamo. Lui va via di casa, va a casa di lei, ma io non lo sapevo. Il mattino seguente torna e mi dice che ha deciso che vuole stare con me. Ma dopo una settimana mi arriva la telefonata di lei, dove mi dice che quella sera, quando lui era andato, io ero andata a casa sua, che gli ha detto che non mi lascia semplicemente perché non saprei come pagare l'affitto e come tirare avanti con due figli, che non mi ama più. Quando io gli dico queste cose, lui ovviamente cerca di negare. E così, dopo tante litigate, finalmente la toglie da sopra WhatsApp e da sopra i social. Stiamo tentando di ricostruire una famiglia, di riavvicinarci. Però vedete, sto ancora tanto male. E sapete chi è che mi sta facendo capire qual è il senso vero della vita? Mia sorella, che sta combattendo contro un cancro al seno. Mia sorella, che è una guerriera, che non si arrende. E più guardo lei, più mi accorgo di quanto io invece mi sia... Sono stata debole. Mi sono stata... Nei miei confronti di mio marito, una persona di poco pulso. E ora mi trovo così. E non so che fare. A volte mi chiedo se è meglio lasciarlo. Oppure cercare di continuare a portare avanti questo matrimonio che dura da 30 anni. Dove comunque lui già all'inizio mi aveva tradito una volta e io comunque lo perdonai. Ho 46 anni e non sono una persona troppo grande per cercare un giorno di meritarmi la felicità. E questa cosa mi ha un po' distrutto. E adesso sto piena di paure e di mille dubbi. Buona vita. Cara amica, io un po' ti capisco. Nel senso che ho avuto purtroppo molte esperienze con delle mie amiche che si sono trovate nella tua stessa situazione e che hanno messo sul piatto della bilancia tanti anni di matrimonio con un tradimento. Ma in questo caso non è solo un tradimento, perché tuo marito è recidivo. E in più la cosa peggiore è che lui, anche se dice che vuole stare con te, comunque ti fa mancare di tutto. Perché tu mi dici che comunque non ti apprezza, che comunque non ti fa sentire il suo amore, che comunque non ti coccola, che comunque non è un marito presente. Quindi adesso tu sei sposato esattamente con chi? Questa è la mia domanda. Molte volte quando si sa che il proprio partner, il proprio compagno ha un amante, più di capire cosa è giusto per noi, si va in competizione con l'amante. Come se ci vogliamo riprendere il marito per non dare a vinta a lei. Come se fosse una vittoria, quella di avere visto un bello marito che si divide tra una donna e l'altra. Come fai a riprenderti un uomo che ti dice che con lei prova sensazioni che con te non ha mai provato dopo 30 anni di matrimonio, dopo che con te ha fatto due figli. Non è facile. E forse più tu sei vicino a tua sorella, più dovresti capire che meriti molto di più. Ma perché devi buttarti ai piedi di quest'uomo che... Tu mi dici, io non so se lui sembra che lo costringo a stare con me. Mi dispiace dirtelo. Un po' è vero. Se veramente vuoi sapere tuo marito che cosa vuole, lascialo libero di decidere. Digli che ti troverai al lavoro e che ci penserai tu ai tuoi figli. Che pagherai tu l'affitto. La dignità ha bisogno di sudore. Non sto dicendo che tu non ce l'hai, ma sto dicendo che togli anche questa scusa. Perché se fosse vero che lui rimane con te solo perché ha paura che tu non riesci a pagare l'affitto ai tuoi figli. Ti sembra questo un buon motivo per rimanere insieme una persona? Non esiste proprio. Perché devi stare a casa tua con un estraneo? È un matrimonio questo? Che cosa vuoi ricostruire? Ci sono certi vasi che quando si rompono non si possono aggiustare più. Vedi, in Giappone usano una tecnica, adesso mi sfugge il nome, dove quando il vaso si rompe in due o tre parti, mettono insieme i pezzi con dell'oro e diventano vasi pregiate. Ma in questo caso il tuo vaso non è pregiato. Perché tuo marito continua a non dimostrarti e a non farti capire che lui si è pentito di quello che ha fatto. Anche perché ricidì. Io penso che tu debba un attimo capire quello che ti sta succedendo e se ne vale la pena stare insieme a questa persona. È difficile, lo so. E 30 anni di matrimonio sono 30 anni. Sono a vita. Ma le persone non sono fatte per rimanere per sempre con noi. Sai chi sono le persone che rimarranno per sempre nella tua vita? I tuoi figli. Volendo o non volendo. L'amore può finire. Purtroppo sì. E a volte ce ne dovremmo fare una ragione. E andare avanti, andare oltre. Capendo che la nostra felicità non si può basare sempre solo su una persona. Tu pensi davvero che lui cambierà? Quante volte lo guardi chiedendoti se sta pensando a lei o se vorrebbe stare là? E puoi vivere così. Sentendoti di troppo. E l'emosinando affetto, amore. Nessuno è nato per l'emosinare. E nessuno costringe nessuno. Riprenditi in mano la tua vita. Tua sorella ti sta insegnando una grande cosa. E credo che sia arrivato il momento per te di capire esattamente cosa vuoi dalla tua vita. Facendoci vedere così bisognose. Quella persona non è libera di decidere. Probabilmente tuo marito ti vuole bene. Perché dopo 30 anni ci mancherebbe. Sei la madre dei suoi figli. Ti vuole bene. Ma non hai il coraggio perché comunque sa che in questo momento sei fragile. In questo momento sei vulnerabile. E non perché ti ama. Perché ha compassione per te. È un altro sentimento. Ma le persone non stanno insieme con compassione. Non hai più pietà. E non è perché non ha paura che non possa pagare il pigiore. Hai capito? Rifletti. Hai due figli grandi. Puoi avere ancora tanto tempo davanti a te per ricostruire la tua vita sul fondamento più solido. Ma soprattutto sulla tua felicità. Un grande in bocca al lupo a te. Ma soprattutto a tua sorella. Un bacio grande. Buona vita. Buona vita.